buongiorno mister ci si rivede come sono andate queste due settimane abbiamo lavorato bene sono contento di come della disponibilità dei ragazzi che continua ad essere sempre molto alta e ci siamo preparati per per affrontare la gara che arriva in campionato come sempre una gara complessa un avversario difficile in cui dovremo performare per uscire dal campo con un risultato positivo dei cinque dei cinque elementi che aveva in nazionale due sono tra i giocatori che ha impiegato di più parlo di doig e tosved sono tornati in buone condizioni mentali e fisiche la domanda successiva uno che in nazionale ci sarebbe andato ma non c'è andato e berardi quanti minuti potrebbe avere nelle gambe secondo lei la prima sono rientrati tutti nazionali ieri qualcuno un po prima qualcuno un po dopo qualcuno ha giocato di più qualcuno di meno però sono tutti in ottimo stato ogni tanto prendere aria fresca e cambiare spazi può anche essere d'aiuto quindi li abbiamo tutti a disposizione come tutti gli altri ragazzi tranne matteo lo vato che ovviamente il recupero sarà un po più lungo e come anche nelle precedenti gare a malincuore qualche ragazzo non farà parte di questa trasferta però sono ragazzi che stanno mettendo grandissima partecipazione stiamo migliorando tanto anche con i ragazzi che in questo momento stanno avendo meno spazio quindi vari di andrea missori antiste cumi miranda sono dei ragazzi che sono convinto che sicuramente in questo momento stanno sono un pizzico penalizzati però stanno mettendo grandissima partecipazione e alza nel livello di allenamento perché hanno delle qualità e saranno importanti nel nostro percorso lo dico sempre e lo ripeto anche oggi per quanto riguarda domenico anche lui per la prima volta siamo riusciti a averlo in maniera continuativa fa tutti gli allenamenti li ha fatti bene li fa con grande determinazione con grande energia d'entusiasmo e sono tutte caratteristiche sono importantissime per la nostra squadra sarà della partita ovviamente non sarà dell'intera partita decideremo abbiamo tempo ancora per decidere quanto minutaggio avrà in questa gara il brescia mister è una delle protagoniste forse a sorpresa ma nemmeno troppo di questo campionato lei l'ha allenato in una parentesi non fortunatissima ho letto su internet così però non è che dopo le ha portato una gran fortuna lei al brescia perché non ci ha mai perso cos'è una voglia di rivincita o solo una coincidenza questa non la sapevo e avrei voluto non saperlo però in tutti i posti dove sono stato tutti i posti dove sono stato mi hanno lasciato qualcosa anche esperienze meno positive e credo anche di aver lasciato io sempre un ricordo piacevole al di là del professionista ma cosa più importante la persona quindi ritrovo con piacere alcune persone con cui ho condiviso poco tempo quindi in poco tempo non si possono fare grandi cose però in quel poco tempo con qualcuno ho lasciato anche dei bei rapporti e quindi lo ritrovo con piacere detto questo ovviamente sappiamo che sarà una gara molto difficile perché è un avversario in grande fiducia un avversario che ha delle qualità importanti un avversario che in casa ha messo sotto Palermo Frosinone e Cremonese in ordine che quindi un avversario di tutto valore arriveremo con grandissima umiltà con grandissima determinazione e pronti ad esprimere quello che è il nostro potenziale perché anche noi penso che abbiamo gli argomenti per poter fare gara e per poter uscire dal campo come vogliamo uscire dal campo sapendo che le difficoltà saranno elevate ma siamo in grado di proporre anche noi delle difficoltà agli avversari Buongiorno mister mi chiedo se arrivare a una partita così importante dopo la sosta può essere qualcosa che vi aiuta o magari aver staccato la spina aver abbassato un po' la tensione è un handicap diciamo così questa è una domanda da posto quindi prima abbiamo provato a fare le cose fatte bene recuperando le energie che dovevamo recuperare facendo degli allenamenti intensi faticando perché ovviamente senza le fatiche non esiste il miglioramento e quindi pensiamo di esserci preparati bene per affrontare una gara molto difficile poi il campo dà sempre il risponso però il nostro obiettivo è quello di provare a fare la nostra migliore prestazione su tutti i punti di vista perché la migliore prestazione come dico sempre ti porta al miglior risultato possibile e vedremo poi quale sarà Invece rispetto alla gara di Cittadella cosa vorrebbe rivedere? il sole è stato veramente esuberante probabilmente sarà difficile tornare a segnare sei gol nel corso del campionato ma c'è qualcosa nel corso della partita che ha visto che vorrebbe rivedere anche a Brescia? Le cose positive ce ne sono state abbiamo viste e cercheremo di riproporle sul campo al di là degli interpreti perché sono state fatte delle cose buone poi ovviamente ci sono state delle cose su cui ci siamo soffermati per migliorarci ma quello lo facciamo quotidianamente, lo facciamo settimanalmente, lo facciamo dopo ogni partita la bravura è continuare a farlo a prescindere da quello che ti dice la partita e quindi sapere che sempre ci sono dei margini per potersi migliorare e lavorare per cercare di colmare questi miglioramenti Buongiorno mister, volevo lanciare una piccola provocazione quello con il Brescia sarà un sassuolo ingordo come con il Cittadello o sarà un sassuolo che si accontenta come con lo Spezia? Noi prima non siamo né ingordi né ci vogliamo accontentare come ho detto prima cerchiamo di arrivare con grandissima umiltà e con grandissimo rispetto dell'avversario di turno che incontriamo consapevoli del fatto che abbiamo delle qualità ma le qualità da solo non bastano ce lo dimostra la storia di tutti i tipi di campionati quindi questa è una cosa che noi conosciamo bene e è una cosa che non ci deve sorprendere perché sappiamo le tante qualità che hanno gli avversari e dobbiamo essere bravi a rispondere presente sul terreno dal primo all'ultimo minuto come ho detto prima cercando di esprimere quello che è il nostro potenziale perché comunque riteniamo di avere un potenziale di grande qualità il 6 a 1 con il Cittadella ha fatto un po' risvegliare gli altri perché prima leggendo tanti commenti degli addetti ai lavori non tutti mettevano il sassuolo tra le favorite adesso questo 6 a 1 sto notando in tantissimi che stanno iniziando a dire Pisa e Sassuolo sono le favorite il Pisa perché è il primo e il Sassuolo dopo questo 6 a 1 ecco c'è un rischio insomma che la squadra tra virgolette possa rilassarsi dopo questo risultato importante beh i rischi ci sono sempre però l'obiettivo nostro è quello di non abbassare mai la guardia ho detto prima a prescindere da quello che ci dice il risponso di una gara noi sappiamo quello che vogliamo e sappiamo quanto sarà difficoltoso nell'arco del percorso andare a cercarlo quindi non andiamo lontani dobbiamo essere bravi a non farci rilassare o indebolire quando arrivano i complimenti né rilassare o indebolirci quando arriveranno delle critiche noi sappiamo quella che è la nostra strada conosciamo quelle che sono le nostre qualità e sappiamo benissimo che le qualità da sole non bastano per essere protagonisti di uno sport quindi alle qualità dobbiamo abbinare le grandissime motivazioni che dobbiamo sempre dimostrare noi stessi di avere e di risvegliare quotidianamente quindi quello è il nostro obiettivo